Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 94esima puntata del podcast di Marcos Box. Bene, bene, bene. Iniziamo questa puntata parlando di Wayland e dei passi in avanti che si stanno compiendo nel supporto ai driver Nvidia. E praticamente che è successo? È successo che Eric Kurzinger, un ingegnere di Nvidia, ha proposto due patch per Wayland che hanno lo scopo di raggiungere il supporto per il rendering con accelerazione hardware su xWayland per il GPU Nvidia. Queste due patch servono praticamente a fare da prepista all'imminente arrivo dei driver proprietari Nvidia, molto probabilmente si parla dei driver Nvidia 470, che avranno il supporto completo a Wayland. Io, personalmente, sono molto contento di questa cosa perché, come ben saprete, ho da sempre schede Nvidia, nonostante utilizzo Linux, e questo significa che sono leggermente masochista. Va bene, da parte questo, e non vedo l'ora di poter avere un supporto nativo per i driver Nvidia con Wayland, in modo tale da poter avere senza problemi, distribuzioni, nomi centri che danno ampio supporto a Wayland e di poter apprezzare senza avere tutti i vari problemi che abbiamo adesso con questo tipo di driver e Wayland. Coppia proprio bruttissima. Bene, 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 torniamo a parlare di Richard Solman. Nelle ultime settimane, come ben saprete, il suo rientro all'interno del consiglio di amministrazione della Free Software Foundation ha scatenato una serie di polemiche che hanno coinvolto associazioni varie del software libero open source, ma anche distribuzioni come Fedora e Red Hat che si sono schierate contro Richard Solman. Bene, dopo tutte queste serie di polemiche e minacce che sono state fatte alla Free Software Foundation di tagliare i fondi, tagliare il supporto e quant'altro, la Free Software Foundation ha deciso di pronunciarsi ufficialmente e ha pubblicato una dichiarazione ufficiale in merito alla rielezione di Starman all'interno del proprio consiglio di amministrazione. Nella dichiarazione che potete leggere su Marcosbox, la Free Software Foundation di fatto va a difendere la propria scelta di riammettere Richard Solman nel consiglio di amministrazione. Perché? Perché la maggior parte del consiglio di amministrazione ritiene che il comportamento di Richard Solman si sia moderato nel corso di amministrazione e chiede che il suo pensiero, la sua presenza, possa rafforzare la Free Software Foundation nel proseguimento della sua missione. Io vi invito a leggere tutto quanto il post che è stato pubblicato, tutta la dichiarazione che è stata pubblicata dalla Free Software Foundation e vi invito anche a leggere il post che è stato pubblicato da Richard Solman nel quale chiede scusa per il suo comportamento e fa alcune precisazioni. Che dire, lunga vita a Richard Solman, speriamo che questo post o queste dichiarazioni possano servire a, diciamo così, a far meglio digerire il ritorno a Richard Solman all'interno della Free Software Foundation e speriamo che i vari big ci ripensino nel più breve tempo possibile. E niente, speriamo che si risolva tutto per il bene. La scorsa settimana ho pubblicato un piccolo articolo riguardante Flock che fa un po' il punto della situazione e spiega che cos'è questa tecnologia che è praticamente diventata subito divisiva all'interno del mondo dei browser web. Lo scorso marzo, e questa tecnologia è stata annunciata da parte di Google, Flock che cos'è? è una tecnologia basata sul machine learning pensata per sostituire i cookie di tracciamento ai fini pubblicitari. Questa tecnologia è stata integrata in Google Chrome 89 e attualmente è in fase di test in alcune regioni, in alcune nazioni. e sta coprendo, praticamente lo nostro test si sta svolgendo sullo 0,5% degli utenti di queste regioni selezionate, che sono principalmente regioni asiatiche, cioè l'Indonesia, il Giappone e qualche cosa negli Stati Uniti e nazioni di Mitrof, quindi Brasile e Canada. Flock che cos'è? Perché se ne sta parlando? Perché è salita la ribalta? Praticamente Flock viene eseguito all'interno del nostro browser e va a esaminare il nostro traffico web dell'ultima settimana, creando un profilo anonimo che viene poi mantenuto aggiornato nel tempo. Questo algoritmo di machine learning alla base di Flock analizza i dati messi a disposizione degli utenti e va a individuare dei gruppi omogenei di utenti sparsi per tutto il mondo, gruppi omogenei che sono accomunati da ricerche e quant'altro. Ogni gruppo riceve un'etichetta, chiamato il Flock ID, che va a acquisire informazioni significative sulle nostre abitudini di navigazione. Il browser di ogni utente condividerà quindi un ID, comunicando questo ID, viene comunicato a quale gruppo appartiene, e viene comunicato ai vari siti e inserzionisti. I gruppi saranno composti circa da qualche miliardo di utente e, a detta di Google, questo approccio dovrebbe garantire una migliore privacy rispetto ai tradizionali cookie. Questo però non è propriamente vero, perché, come ha fatto notare la Electronic Frontier Foundation, lo so che mi odiate quanto pronuncio le parole in inglese, che gli ricercatori dell'Electronic Frontier Foundation hanno analizzato Flock e praticamente hanno concluso che, come è ovvio, che questa nuova tecnologia può esporre gli utenti alla profilazione in altri modi. Uno su tutti la profilazione mediante fingerprinting, praticamente tutte quelle tecniche che servono a creare un'impronta digitale del nostro browser che possono essere sfruttate dai vari inserzionisti e quant'altro. Firefox recentemente ha introdotto il supporto contro la tecnologia di fingerprinting, quindi è più sicuro sotto questo punto di vista. E che succede? Succede che questa tecnologia, questo Flock ID, può essere utilizzato in abbinata con altre tecniche per avere informazioni specifiche sulla nostra coneggio di navigazione, i nostri dati demografici, interessi. Si può risalire a, che ne so, al gruppo di persone bianche, classificare il gruppo di persone nere, quelli appartenenti alla comunità LGBTQ e quant'altro. Insomma, è possibile filtrare ulteriormente grazie a tecniche di fingerprinting e grazie al Flock ID e quindi è più pericoloso dei cookie tradizionali. Diversi attori nel mondo dei browser web si stanno apponendo, Vivaldi si è opposta, Brave si è opposta e quindi anche Microsoft Edge si è opposta. Quindi tutti i browser basati su Chromium hanno deciso di boicottare Flock e di fatto Google Chrome rimane l'unico browser che attualmente supporta questa tecnologia. Che dire, io speriamo che Google ci ripensi e modifichi un po' tutto l'ambaradan perché di fatto sì, abbiamo Firefox che non supporta, abbiamo Brave, abbiamo Vivaldi, abbiamo Edge che non li supportano, però come avrete avuto modo di vedere guardando le varie statistiche che vengono pubblicate sull'utilizzo dei vari browser web, bene, sapete benissimo che è Google Chrome a fare della padrona. Quindi questi browser alternativi rappresentano una minoranza di praticamente dei browser attualmente utilizzati dalle persone. Quindi Google deciderà di continuare su questa strada avendo il monopolio quasi totale della navigazione web c'è poco da fare. L'unica è convincere in massa gli utenti a migrare ad altre soluzioni, ma la vedo molto difficile perché sapete bene la pigrizza degli utenti dove arriva. Comunque, vi darei aggiornati nelle prossime mesi, settimane, sulla vicenda Flock sperando di avere buone notizie. Passiamo adesso alla parte dei rilasci. C'è stato il rilascio di LXQT 0.17.0 Questa nuova versione dell'ambiente desktop leggero passato su LQT va ad aggiungere alcune funzionalità che sono molto interessanti che riguardano il supporto al pannello di LXQT che adesso consente al pannello di comportarsi come una vera e propria dock ovvero di nascondersi automaticamente quando si sovrappone una finestra. Le altre novità riguardano i miglioramenti nel file manager utilizzato, nell'emulatore di terminale e anche i miglioramenti nella gestione energetica. Sono piccoli passi per un desktop environment di nicchia però sono continui miglioramenti che fanno piacere. Su Marcosbox comunque trovate il link alla pagina GitHub di LXQT con le note di rilascio di questa nuova versione. Restando sempre in tema dei rilasci passiamo alle distribuzioni Linux e passiamo al rilascio della nuova versione di GNOME all'interno dei ripositi di OpenSUSE Tumbleweed. Tumbleweed che cos'è? È l'edizione rolling release di OpenSUSE e qualche giorno fa, praticamente il 17 aprile, è stata rilasciata la versione 40 di GNOME. Questo significa che adesso tutti quanti gli utenti intenzionati a provare GNOME 40 nella sua edizione più vanilla possibile perché OpenSUSE non apporta nessuna modifica possono farlo grazie a OpenSUSE Tumbleweed. Quindi se vi sta stretta, se odiate Fedora per vari motivi, che non sto qui a rilasciarvi, e potete provare OpenSUSE Tumbleweed con GNOME 40. E che dire, speriamo che questa nuova versione arrivi presto anche nei repository di Mangiaro e che sia esente dal bug dei driver Nvidia perché non l'ho postato su Marcosbox ma ve ne ho parlato, mi sa, nel canale Telegram GNOME 40 è presente su Mangiaro, sull'ultima versione di Mangiaro. Mangiaro è una rolling, utilizza il sistema di semi-rolling. Però che cosa è successo? È successo che gli sviluppatori di Mangiaro hanno deciso di non aggiornare la Shell, di non aggiornare Mutter, di non aggiornare a qualche altro pacchetto al fine di garantire la compatibilità con le estensioni per avere un look coerente. Quindi per non lasciare piedati tutti quanti gli utenti che amano le estensioni, le personalizzazioni della Shell che sono presenti su Mangiaro e quindi hanno deciso di trattenere fino a quando non ci sarà il supporto compito. Quindi, vabbè, è aperto e chiuso a parentesi. Parlando di GNOME, come non parare di due distribuzioni che utilizzano GNOME che questa settimana sono tornate a fare due importanti annunci sulle prossime versioni delle proprie distribuzioni. La prima distribuzione di cui voglio parlare è Zorin. Zorin che cos'è? È una derivata di Ubuntu sviluppata da Zorin Group che ha un look e feel che ricorda molto quello di Windows. Utilizza GNOME come ambiente desktop ma va a personalizzare l'interfaccia utente con l'aggiunta di una serie di estensioni forcate da altre estensioni che possiamo trovare comunemente sullo store delle estensioni di GNOME che però queste estensioni nel suo complesso oltre a un tema grafico particolarmente accattivante vanno a rendere più pacevole l'utilizzo di GNOME dandogli un look più consono soprattutto a quegli utenti alle prime armi perché di fatto il tema di Zorin OS richiama quello di Windows quindi con un pannello in basso con gli indicatori attivi e funzionanti con il lanciatore applicazioni con le finestre e i pulsanti per le finestre minimizza e massimizza pre-abilitati per impostazioni free-definite e che dire quindi migliora l'utilizzabilità di GNOME Shell e rende il desktop environment usabile anche da chi fa il primo passo quindi compie il primo passo dal mondo Windows al mondo Linux sapete bene che io apprezzo tantissimo tutte quelle distribuzioni che vanno a mettere una pezza ai vari problematiche che sono presenti su GNOME Shell uno su tutte che io una cosa di cui mi batto sempre è la mancanza del supporto per gli indicatori di terze parti io faccio largo uso di client di sincronizzazioni servizi cloud e avere l'iconcina che mi sta a mostrare se si è fatta la sincronizzazione del file o quant'altro beh quella è molto importante avere nella 3 di sistema così come è importante per me avere ad esempio la notifica di eventuali messaggi neogretti di Telegram quindi la possibilità di averla nella negatrice e quindi sempre visibile sempre presente e purtroppo sapete bene che gli sviluppatori di GNOME hanno rimosso tali funzionalità nel corso del rilascio di GNOME la prima versoria di GNOME Shell e ci sono poi sono sorte appunto diverse soluzioni alternative diverse estensioni diversi approcci da parte dei vari delle varie distribuzioni che fanno utilizzo di GNOME che vanno a migliorare questo aspetto ma vanno anche a migliorare altri aspetti come per esempio aggiungere la possibilità di avere una dock fissa di avere un pannello in basso insomma fanno capire anche gli sviluppatori di GNOME che sì avete fatto un bel lavoro con GNOME però la Shell non ci siamo non ci siamo e quindi lo vanno lo vanno a colmare tutte le varie lacune e sono tante le distribuzioni che fanno questa che hanno questo approccio tra le più famose abbiamo Ubuntu che va a personalizzare la Shell con il lanciatore fisso con gli indicatori da try con le icone sul desktop abbiamo Zorin che va a dare un aspetto alla Windows abbiamo anche la soluzione proposta da PopOS che vedremo più avanti si evolverà ulteriormente nel corso della prossima versione ma abbiamo anche l'approccio quello di Mangiaro che offre una serie di estensioni che vanno appunto a colmare questi questi deficit di GNOME Shell e ha addirittura un tool che consente di cambiare l'aspetto di GNOME Shell al volo quindi con dei layout preimpostati insomma aperta e chiusa per questa parentesi quindi apprezzo molto queste distribuzioni come Zorini che ci mettono del loro per migliorare l'usabilità di GNOME e tornando a Zorino S16 quali sono le particolarità di questa nuova versione vi ho già detto una su tutte e l'aggiornamento finalmente alla base Ubuntu 20.04 ma troviamo anche un nuovo tema che è un aspetto rinnovato molto raffinato che rende l'utilizzo della Shell più più del desktop più piacevole basato su tonalità chiare ma c'è anche un tema scuro che è possibile abilitare tramite un tool apposito presente all'interno della distro tramite questo tool apposito che è presente all'interno di Zorini è anche possibile andare a modificare i layout con una serie di layout predefiniti che se vi piace perché ne sono i layout a Windows vi piace il layout con le icone centrate è possibile modificare anche l'aspetto è possibile modificare gli accenti quindi i colori quindi se non vi piace il tema chiaro con le finestre con le selezioni blu dei test e quant'altro potete impostare su rosso su verde insomma va a dare una serie di cose quelle che sono davvero interessanti con questo tool che è possibile fare tutto con un semplice click quindi senza andare a installare cose a parte e quant'altro abbiamo su questa nuova versione poi una nuova selezione di sfondi c'è un nuovo sfondo dinamico con una bella montagna con i colori di questo sfondo che cambiano durante le ore del giorno sono state fatte poi alcune ottimizzazioni che migliorano la velocità la fluidità di Zorino OS il supporto FlatTab è pre-abilitato quindi è possibile installare applicazioni dai repository quindi dai repository di sistema di Ubuntu è possibile installare applicazioni in formato Snap è possibile installare applicazioni in formato FlatPack dal repository FlatTab potete installare applicazioni con Wine potete installare applicazioni con tutto out of the box sono stati migliorati i gesti del touchpad quindi una cosa molto importante per chi utilizza la distribuzione su un laptop c'è stata aggiunta una nuova applicazione registratore di suoni la barra delle applicazioni di cui vi parlavo prima di zone è stata migliorata è stata potenziata ed è possibile fare alcune modifiche personalizzare ulteriormente ed infine è stata aggiunta la modalità Jelly che praticamente sarebbero le finestre tremolanti che noi utenti di vecchia data soprattutto di Ubuntu apprezzavamo che erano possibili grazie a Compiz che adesso è possibile abilitare con un semplice clic all'interno dell'applicazione Zorin dedicata alle modifiche dell'aspetto che dire è una bella distra molto piacevole di utilizzare e vi consiglio di installarla e di proporla soprattutto a tutti quegli utenti che vengono dal mondo Windows in modo tale da fargli fare un passaggio indolore fateci un pensierino e ripeto è comunque tutta roba che è possibile replicare anche con altre distribuzioni perché potete mettere potete cambiare il tema potete abilitare l'estensione per il pannello inferiore e quant'altro però qui avete già una soluzione out of the box che non guasta mai l'altra distribuzione che utilizza Gnome che ha fatto un importante annuncio questa settimana è PopOS PopOS che cos'è? è quella distribuzione sviluppata da System76 il famoso produttore statunitense di computer equipaggiati con Linux 100% Linux compatibili che ha annunciato che PopOS 21.04 che sarà basata su Ubuntu 21.04 il cui rilascio di PopOS 21.04 è previsto a giugno 2021 quindi due mesi dopo il rilascio della prossima versione di Ubuntu verrà rilasciato questa nuova versione di PopOS con Cosmic Desktop un nuovo ambiente desktop basato su Gnome che va a praticamente stravolgere il look di Gnome Shell rendendolo più facile e da utilizzare più efficiente su Marcosbox trovate una serie di immagini ma anche di video che vi illustrano tutte quante le modifiche che il team di PopOS ha deciso di proporre e che dire è davvero davvero ben fatto mi piace molto la direzione che sta prendendo lo sviluppo di PopOS mi piace molto quello che stanno facendo con la Shell come la stanno piegando per renderla più bella più intuitiva e più facile da utilizzare quindi abbiamo sempre il supporto agli indicatori di terze parti abbiamo l'aggiunta di una dock che è possibile che è preinstallata ed è possibile avere in basso ma è possibile spostare anche di lato quindi per chi vuole le cose un po' alternative abbiamo una serie di modifiche che sono state fatte per l'utilizzo del tasto super quello Windows della bandierina che adesso per impostazione predefinita va a attivare il launcher sono stati fatte i miglioramenti nelle aree di lavoro nella gestione delle applicazioni e tutte modifiche che vanno nella direzione di migliorare la serie di migliorare Gnome Shell e secondo me vanno anche in direzione stanno preparando per il passaggio di PopOS a Gnome 40 nella sua interezza perché dico questo perché attualmente la versione 21.04 di PopOS essendo basata su Ubuntu 21.04 avrà comunque una base Gnome 40 parzialmente completa e fare l'utilizzo però ancora di Gnome Shell la versione 3.38 sapete bene che con Gnome 40 si è andato a stravolgere ulteriormente il paradigma desktop di Gnome con la presenza di una dock quando si va a lanciare le attività quindi c'è stato uno sviluppo che è passato dal verticale orizzontale della Shell andatevi poi a recuperare i vecchi posti su Marcosbox al riguardo per meglio capire la cosa se ancora non avete mai incontrato uno screenshot di Gnome 40 bene secondo me questa direzione questa cosa di PopOS va proprio in questa direzione quindi va a migliorare diciamo così la coerenza desktop della Shell anche con con la panoramica delle attività di Gnome 40 e quant'altro mi piace molto poi un'altra cosa di PopOS che hanno fatto questa serie di modifiche che sono state proposte adesso che verranno implementate su su Cosmic su Cosmic desktop sono state modifiche che sono state fatte ascoltando la community si sono accorti che oltre il 56% degli utenti di PopOS intervistati affermava di utilizzare ad esempio Dash2Doc o Dash2Panel e quindi sviluppatore net giustamente se la gente continua metterci estensioni di terze parti per andare a migliorare per andare a migliorare l'aspetto della Shell per aggiungere funzionalità della Shell perché non fare qualcosa che ha fatto in casa che va a colmare questa cosa e quindi hanno deciso di dare la propria interpretazione della doc comunque andatevi a leggere su Marcosbox l'articolo a riguardo andatevi a vedere gli screenshot tutto quello che vedrete è ancora work in progress c'è tempo fino all'uscita di giugno e speriamo speriamo di poterci mettere a breve le mani sopra potete farlo già se vi andate a scaricare l'iso di la versione precedente la 20.10 la data aggiornare manualmente i repository però è un mezzo casino però ci ho provato io se mi seguite su Telegram avete visto che è un mezzo rotto radistro speriamo che si decidano a rilasciare qualche versione beta in itinere in modo tale da poter provare senza andare a ricrearsi tutto senza andare a fare aggiornamenti manuali e quant'altro comunque bel lavoro PopS state facendo davvero tante belle cose l'ultima notizia di questa settimana riguarda Microsoft Edge per Linux il nostro arci nemico Microsoft ne ha fatta un'altra delle sue che però in questo caso è una cosa davvero piacevole e utile sapete bene che Microsoft ha deciso di ribasare Edge su Chromium da quando l'ha fatto ha iniziato a proporre una serie di patch e miglioramenti che ne hanno migliorato anche i browser tutti quanti i browser che fanno utilizzo di Chromium quindi Chrome Vivaldi Opera Brave una serie di modifiche che sono state fatte che sono state proposte dagli sviluppatori di Microsoft hanno consentito migliorare le prestazioni ridurre il consumo e quant'altro però ci sono alcune funzionalità interessanti di Microsoft Edge presenti nella versione desktop che adesso sono state portate anche nella versione per Android di Microsoft Edge Microsoft Microsoft ha nella giornata di ieri 17 aprile 2021 pubblicato sul Google Play Store la versione Canary di Microsoft Edge la versione Canary è quella in sviluppo quella con le ultime tecnologie con le ultime modifiche proposte con questa nuova versione il codice di Microsoft Edge viene uniformato a quello della versione desktop e vengono portate una serie di modifiche di funzionalità che sono presenti sulla versione desktop e fra queste c'è una funzionalità che a mio avviso è una delle più interessanti di Microsoft Edge ovvero il sintetizzatore vocale all'interno di Microsoft Edge è presente una funzionalità che vi consente di leggere ad alta voce le pagine web questa funzionalità direi vero era già presente nella versione stabile di Microsoft Edge per Android però il supporto alla lingua italiano non era disponibile era disponibile soltanto per la lingua inglese adesso con la versione Canary di Microsoft Edge è stato aggiunto anche il supporto alla lettura vocale delle pagine anche per la lingua italiana quindi con mia estrema gioia ho potuto provare questa funzionalità che è una delle killer features secondo me di Microsoft Edge ed è una delle funzionalità che più apprezzo fatemi sapere voi che cosa ne pensate se continuate ad odiare Microsoft o se mano a mano visto anche i recenti risvolti che ci sono stati con Google per quanto riguarda i problemi di privacy per quanto riguarda Flock per quanto riguarda altre politiche che hanno castrato Chromium quindi se anche voi avete deciso di dire visto che voglio restare in ambito Chromium e voglio avere funzionalità integrate all'interno ai browser come la sincronizzazione come un servizio di traduzione in terze parti integrato e altre funzionalità interessanti se anche voi avete deciso di migrare a Microsoft Edge io non ho deciso ancora di migrare a Microsoft Edge ci tengo a precisare perché utilizzo tutte e tre utilizzo Edge utilizzo Firefox e utilizzo Google Chrome però ultimamente sto guardando sto miccando a Microsoft Edge e lui mi ricambia fatemi sapere voi comunque che cosa state facendo se avete pronta la migrazione imminente e beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 94esima puntata del podcast di Marcosbox ci riascoltiamo nelle prossime settimane con la prossima puntata vi ricordo che potete comunque seguirmi sempre sul blog che è aggiornato costantemente potete iscrivervi al canale Telegram per avere le ultime notizie ma potete iscrivervi anche alla community presente su Telegram di Marcosbox dove troverete altri utenti per scambiare chiacchiere non si parla soltanto di Linux ma si parla anche di altre cose quindi è una community aperta alla libera discussione e vi ricordo anche un'altra cosa che da qualche settimana sono diventato partner di Amazon quindi che cosa significa significa che utilizzando il codice referral Marcosbox meno ventuno tutto attaccato o in alternativa andando su Marcosbox cliccando sul banner che trovate di Amazon verrete dirottati alla pagina di Amazon e quindi qualsiasi acquisto farete utilizzando il mio codice referral una piccola percentuale del vostro acquisto a voi non vi costerà nulla ma è Amazon che mi rimborsa mediante buoni acquisti una piccola percentuale andrà nelle tasche di Marcosbox che verrà utilizzata per supportare il canale magari per migliorare un po' l'attrezzatura e altre cose comunque ci sono tanti canali che pubblichano notizie con sconti Amazon ed è per questo poi che ho deciso anche di pubblicare sempre su Telegram un canale Telegram dedicato agli sconti dove troverete una serie di sconti non troverete come su altri canali link spam modi dalla mattina alla sera ma faccio una cernita dei prodotti da proporre quindi se mi volete seguire anche lì mi fa piacere se volete utilizzare il mio codice refera mi farà doppiamente piacere lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao